buongiorno a tutti benvenuti eccoci più 0,76 per l'Eurostox più 0,59 per il DAX dopo la brutta chiusura della settimana scorsa anche il Nasdaq in territorio positivo più 0,77% l'S&P 500 più 0,56% per il momento si tratta di un rimbalzo quindi a mio modo di vedere l'ho già ribadito tante volte non dovremmo avere un rialzo stabile un trend degno di questo nome a rialzo fino all'autunno inoltrato fino all'autunno fino alla fine di ottobre e quindi sì autunno inoltrato quindi direi che il mese di settembre dovrebbe essere ancora un mese di repentini cambi di fronte di volatilità di fasi alterne un po' di rialzo poi di nuovo ribasso e poi di nuovo rimbalzo e poi di nuovo ribasso ma alla fine con un mercato che è laterale o lateral ribassista nel complesso quindi lo dico da maggio portafogli leggeri privilegiare un'operatività di breve e comunque con quantitativi ridotti il film non è per nulla cambiato quindi magari rischio di essere noiosi ma quello che ci siamo detti a maggio per il momento si è rivelato ancora piuttosto di attualità e piuttosto corretto qui vediamo il grafico 15 minuti in alto a destra per quanto riguarda il Fuzzi Mib vediamo il dopo la discesa che si è completata a venerdì scorso il ribalzo odierno che è continuato anche dopo l'apertura dell'equity c'è stato mercato che ha aperto il future subito in territorio positivo più 0,19 poi è continuata la progressione all'apertura alle 9 dell'equity con un nuovo massimo che è stato toccato alle 10 a 33.595 però vedete che qua avevamo tracciato quest'area di resistenza sui 33.630 e poi qui ha formato un key reversal ribassista quindi attenzione intraday potrebbe anche esserci un ritorno giù verso i 33.4 primaria di supporto la violazione di 33.630 potrebbe invece dar forza al rialzo e portarci sui massimi di venerdì scorso che sono sui 33.890 questo come impostazione quindi per l'intraday delle prossime ore sul multiday questo è il grafico weekly vedete che non è che la situazione sia cambiata di molto dopo il ribalzo odierno anzi quella di venerdì scorso è una brutta chiusura una brutta candela abbiamo quasi completato un key reversal ribassista dico quasi perché questi due massimi sono allineati non sono questo maggiore del quello precedente però ci siamo andati veramente molto molto vicino è stato rotto il minimo delle ultime due settimane per cui quello attuale quel rimbalzino che stiamo vedendo anche se ci dovesse riportare più su sui 33.7 non cambierebbe non muterebbe il rischio di una discesa che possa riportarci addirittura sui 33 o anche andare a chiudere il gap tra i 33 e i 32.5 in poche parole insomma non mi pare il momento per rientrare sull'equity noi abbiamo monetizzato guadagni piuttosto buoni sull'azionario italiano abbiamo portato a casa mille punti di guadagno però attualmente non abbiamo segnali e siamo flat quindi manteniamo una prospettiva manteniamo liquidità e anche in ottica di trading speculativo di breve non abbiamo assolutamente fretta di dover rientrare a tutti i costi sul mercato andiamo a vedere anche la situazione del bitcoin poi non vede un bitcoin quest'oggi recuperare più 1,31 55.300 dollari però vedete che si tratta di un rimbalzo per ora abbastanza effimero senza la prospettiva potrebbe essere quella di un ritorno sui 56.940 che è la prima resistenza mentre il supporto fondamentale che deve assolutamente reggere sui 49.000 dollari poi andiamo a vedere la situazione del Nasdaq eccola qua il Nasdaq pure sta rimbalzando però è quell'indice che ha prospettive più brutte nel breve periodo vedete come dopo essere stato respinto dai 19.700 che era la resistenza che abbiamo indicato aver formato questo Kira Versa, la ribassista che avevamo pure sottolineato è andato venerdì scorso a rompere il supporto sui 18.6 ora sta facendo il pullback anche chiuso sotto la trendline ribassista quindi veramente siamo all'ultima chiamata il Nasdaq o reagisce adesso ma deve portarsi di nuovo sopra i 18.7 in area di sicurezza o altrimenti potrebbe esserci anche qua il rischio di scendere giù e ritornare sui minimi di agosto anche in area 17.190 quindi prudenza anche sul Nasdaq è d'obbligo andiamo a vedere i pattern che si sono formati li siamo andati a vedere sul time frame settimanale dato che siamo lunedì Kira Versa, le ribassisti ce ne sono parecchi vedete c'è una lunga lista di Adop, Air France, KLM Allianz, Alphabet, Banca Generali venendo l'Italia Banca Mediolanum, Banco BPM Banca Popolare di Sondrio Biper, Brembo, Brunello Cucinelli Buzzi, Caltagirone Caterpillar Commerce Bank Data Logic sono veramente tantissimi i titoli con dei Kira Versa la ribassisti weekly Ferrari anche Fineco Bank cos'altro vediamo Intel ING Group Italgas Scendiamo Marathon Petroleum Netflix Oracle Piaggio Pirelli Prismian Siemens Tamburi Technogym Tenaris Thyssen Group Tinexta TripAdvisor Unicredit Unipol e cos'altro Volkswagen sulla quale insomma non dite che sugli automobilistici e sulla sulla crisi innescata dalla dalla voglia prematura di buttarsi sull'elettrico non eravate stati messi in guardia Kira Versa la Realzisti weekly ce ne sono ma in numero molto inferiore a quelli ribassisti e tra l'altro su titoli meno importanti vedete nella prima parte della schermata non ci sono titoli a larga capitalizzazione o Big Cup USA abbiamo PepsiCo e cos'altro direi nient'altro tra titoli a larga capitalizzazione quindi attenzione lo ribadisco a fidarsi del rialzo attuale perché potrebbe appunto essere un rialzo effimero una correzione all'interno di un trend che potrebbe vedere nuovamente un ritorno con i segni meno qui vediamo anche il DAX weekly dove la discesa partita quella che si è completata la settimana scorsa è partita questo Kira Versa la cavallo delle resistenze sulla resistenza 19.000 punti che avevamo evidenziato stiamo vedendo adesso un rimbalzino però ribadisco potrebbe essere appunto un rimbalzino prima di una nuova discesa vedete come Kira Versa la cavallo delle resistenze Kira Versa è in fase di percomprato di pervenduto bisogna sempre dargli del lei bisogna portare rispetto ai Kira Versa vediamo un po' invece la situazione del HFT Flow Scanner quindi andiamo a cambiare la schermata eccoci qua questa situazione dei flussi si tratta a mio modo di vedere per lo più di ricoperture quelle in acquisto Biper Unicredit Pirelli Moncler Moncler impostata malissimo è veramente anche qua credo sia un proprio ricopertura quella di Moncler e invece abbiamo flussi in vendita su Snam Leonardo che continua a essere una fase poco ottimista poco buona Enel Terna eccetera eccetera quindi con le utilities che dopo aver rotto le resistenze hanno un po' di prese di profitto un po' di flussi in vendita vado a dare un'occhiata alle vostre domande che sono sempre molto numerose è possibile un'analisi di A2A ricordati andiamo a vedere A2A e ricordati prendiamo i nostri grafici A2A eccola qua dunque A2A la scorsa settimana abbiamo visto una buona settimana per le utilities A2A ha fatto però prima il pullback ci siamo sentiti nella seduta di martedì scorso con Emmerich Denarda su classe NBC abbiamo scherzato anche sul fatto che lui diceva vedo le utilities in rialzo e è nel salire abbiamo fatto una piccola scommessa ha avuto ragione lui che Enel è salita però lo stesso vale per A2A avevo anche detto che la vedevo la mia era una prospettiva di breve cioè ho detto non mi stupirei che domani scendesse perché il primo break è di solito negativo e così hanno fatto gli utilities cioè guardate è vero che dopo sono andati a fare venerdì un nuovo massimo ma prima sono scese così come per Enel il primo break è quasi sempre di una resistenza ballato infatti il 3 sono scese il 4 ancora meno 0,59 e poi sono risaliti il primo break per Enel è stato un falso segnale il secondo è stato quello buono A2A corso meno di Enel comunque ha rotto i massimi ha rotto i massimi venerdì scorso e quest'oggi abbiamo visto un po' di flussi negativi quindi qualche presa di profitto l'impostazione è positiva cioè siamo su nuovi massimi praticamente dal 2021 di A2A la prospettiva di taglio dei tassi fa beneficia sicuramente di questa prospettiva il titolo dovrebbe proseguire questo rialzo di medio periodo nel breve insomma vedete flussi negativi e segni meno quest'oggi però sono prese di profitto di breve io credo che dovrebbe mantenersi sopra ai 2 euro che è la prima area di supporto seconda 2.03 chiedo scusa prima area di supporto la seconda praticamente sui 2 euro quindi non la comprerei sui massimi ma se si è long insomma si può guardare la soglia dei 2 euro con la 99 con una certa fiducia questo per quanto riguarda il titolo A2A e poi l'altro titolo che è stato chiesto ricordati ricordati eccolo qua ricordati che dirvi se ascoltate e capite seguite la didattica che faccio ricordati ha un livello di resistenza sui 53.38 vedete guardate 53.38 è quest'area qui dove si era formato anche questo key reverse e la ribassista maggio questa resistenza che è ancora inviolata da non da maggio a marzo 12 marzo c'è questo supporto sui 50-56 che cosa ripeto sempre che tra un supporto e una resistenza non ci fa nulla quindi ricordati se la volete monitorare monitoratela ma non si va long né short tra un supporto e una resistenza si sta fermi si tengono monitorati si mettono dei belli allarmini in queste due fasce e per il resto si aspetta senza fretta poi andiamo a vedere le altre domande Vincenzo no Massimiliano resistenza definitivamente rotta su BTP adesso andiamo a vedere anche BTP come vede Tenaris come vedo Tenaris ma io Tenaris non ecco qua Tenaris sapete se seguite con attenzione che su Tenaris io non sono positivissimo il trend ribassista il settore non è che stia andando benissimo guardate questo bel canale massimi minimi decrescenti questa bella trend line in parallela al canale di regressione lineare siamo tornati guardate con che precisione qua 3 4 settembre è andato ad appoggiarsi a questo canale guardate questa trend line discendente finché non mi ribalta non mi torna sopra i 14 il trend di medio periodo per me non cambia quindi ancora deve superare i 14 per poter ribaltare questa sequenza di massimi e minimi decrescenti quindi in ottica di medio lungo periodo non andrei certamente long su Tenaris in ottica anzi il contatto con questa trend line fa venire più voglia di andare short su Tenaris che non long con l'obiettivo che se dovesse rompere i 12 97 confermato in close la rottura di questo supporto potrebbe addirittura ritornare giù verso i minimi dei 12 15 euro quindi non la vedo ancora benissimo almeno finché non si porta sopra i 14 in ottica di medio periodo e sopra i 13 495 il massimo relativo precedente in ottica speculativa di breve il grafico parla parla più chiaro di così poi vediamo invece il BTP BTP rotte definitivamente le resistenze no perché le resistenze sono sempre quelle che ci trasciniamo dietro e quindi la resistenza è stata rotta il 118.37 siamo andati su e siamo andati a incocciare contro questo livello di resistenza già evidenziato il 120.28 dove c'è questo chi reversa la ribassista e non è stato non è stato ancora rotto è stato sbavato qua 120.34 ma la chiusura è stata sotto quindi non non è stata rotta e poi se anche fosse venisse rotto questo resistenza c'è questo qua che la ribadisco è sempre quella resistenza lì dove c'è questo chi reversa del ribassista importantissimo 121.43 quindi gli ultimi livelli gli ultimi due livelli di resistenza non sono stati rotti poi andiamo a vedere se ci sono altre domande che mi sottoponete andiamo a vedere nella chat di youtube vediamo un po' fincantieri fincantieri vediamo la fincantieri andiamo subito a vedere eccoci qua fincantieri anche qui il grafico parla chiaro che cosa fa fincantieri va a rompere questo livello di supporto che avevamo già tracciato ci eravamo anche tenuti larghi perché ci sono questi due minimi doppio minimo dove aveva fatto questo chi reversa del realzista quindi 4-6-7-8 4-61 tenendosi un po' più larghi sono stati rotti fatto anche qui chi reversa del ribassista rottura del supporto quindi fincantieri andreste long con un supporto che viene rotto anticipato da un chi reversa del ribassista con una sequenza che è tornata ad avere massimi e minimi decrescenti e anche con volumi che hanno spinto il ribasso io no non so voi ma il quadro tecnico indiziario non è buono poi tutto può accadere lo sappiamo in borsa ma insomma mettersi long adesso e avete meno probabilità di lanciare una moneta che venga a testa cioè meno del 50% dei casi poi può andar bene l'eccezione che conferma la regola un colpo di fortuna però in borsa nel trading non ci si affida ai colpi di fortuna va bene una volta ma poi è come andare al casino se uno continua a giocare ti è andata bene una volta meglio evitare perché altrimenti ti rimangi è stato appunto una botta di fortuna rischi di rimangiarti tutto quello che hai guadagnato prima per guadagnare con costanza in borsa o comunque provarci perché non è mai semplice più vuole un metodo bene vista anche fincantieri io ho appuntamenti istituzionali a Milano quindi mi dirigo verso quel di Milano domani mattina ci sentiamo su class CNBC dalle 11 circa risponderemo a una valanga di domande anche domani e rimanete collegati stay tuned come si dice perché ci saranno già annunciate diverse novità che riguardano la didattica i webinar nel corso del mese di settembre buon trading a tutti e ci sentiamo domani a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.